E do la parola allora al rappresentante del CONAPO, Antonio Brizzi, prego. Grazie signor Presidente, onorevole Cozzolino, onorevoli. Allora, mi sembra una cosa molto semplice, cioè qui stiamo, come si può dire, inventandosi l'acqua calda. Il problema fondamentale, se si parla veramente di mettere le mani al portafoglio e ridurre la spesa pubblica, nel Ministero dell'Interno si può fare. Si può fare usando un cosa semplice. I nostri impiegati, i nostri colleghi impiegati, ok, sono importantissimi. Ma quanti anni è che sono al palo senza avere avanzamenti di carriera a confronto dei colleghi impiegati dell'asseggio a fianco? Perché i trasferimenti dei Vigili del Fuoco li fanno degli impiegati del Ministero, non i Sati. Si rendiamo conto? Quindi gli impiegati del Ministero è semplice, prefetti, impiegati tutti uguali, polizia, Vigili del Fuoco uguali. Non a fare il poliziotto o il Vigili del Fuoco, sia ben chiaro, nettamente divisi. E i volontari alle regioni. Ogni regione si gestisce al suo. Mi fa piacere che il mio carissimo amico Pompeo Mannone ha parlato di forestali, di 7.000 forestali, quello che il Corapo dice dalla vita. Quindi è giusto che in mancanza di questi forestali o ce li ridanno indietro 3 o 4.000 forestali carabinieri, o a noi non ci porta niente perché abbiamo un concorso dell'814 da pescare. Abbiamo un concorso in atto, quindi certo che non è giusto che tutti i forestali che sono andati dai carabinieri rimangano lì. Devo venire a Vigili del Fuoco perché sono soldi, sono esperienze. Questa è una cosa importante. Quindi se veramente voi politici a tutti i livelli volete fare l'interesse dei cittadini, il Ministro degli Interni è semplice, gli impiegati tutti uguali. Perché sono impiegati in prefettura, anche non sono limitati oggi un Vigile del Fuoco, un impiegato del SATI Vigile del Fuoco non può andare in prefettura o viceversa. Uno, e quanti anni è? Dall'80 non c'è stata una dirigenza amministrativa, ma mi sembra illogico che un Vigile del Fuoco diventi dirigente amministrativo. Quindi la cosa semplicissima non è andare a inventarci l'acqua calda, ma avere una cosa chiara. Quindi, esempio pratico, e chiudo, nei Vigili del Fuoco, quindi l'assunzione abbiamo notte 14 da pescare, abbiamo un concorso nuovo, dai carabinieri necessita fare un attento controllo di chi deve tornare ai Vigili del Fuoco. E in ultimo, il ruolo tecnico che in polizia esiste e nei Vigili del Fuoco non esiste. Perché tutto il SATI, non è giusto che tutto il SATI deve andare nel Ministero degli Interni. I tecnici informatici, quelli che vanno nei computer, ok, noi facciamo attività di polizia giudiziaria, quando c'è al computer è uno che non è un ufficiale di polizia giudiziaria. Cioè è un cittadino normale. No, i tecnici devono essere tutti del corpo. Poi, come in polizia, non hanno qualifiche di pubblica sicurezza, ma di polizia giudiziaria sì, devono avere la divisa come il Vigili del Fuoco. Questo è veramente un riordino. Mi capite cosa voglio dire? Io, scusate, ho studiato da contadino, ma quello che voglio dire è che il contadino, la massaia, è quella che fa i conti. E quindi, veramente, se volete avere un risparmio per il cittadino italiano, e rinvestirlo, che il Ministero degli Interni sia riordinato veramente profondamente, mettendo prefetti, impiegati, polizia, vigili del fuoco, naturalmente, e ribadisco e puntualizzo, il vigile del fuoco fa il vigile del fuoco, il poliziotto fa il poliziotto. Però, a partire dalla cosa più semplice, il medico può visitare un poliziotto o un vigile del fuoco? L'acquisto dei materiali e dei mezzi può essere uguale, l'elicottero si dipinge di rosso e uno si tinge di celeste. Le caserme, si dividono in una caserma, dalla parte ci sta la polizia e dalla parte del vigile del fuoco. Le mense, le pulizie. E quanto sarebbe questo risparmio? Scusate, grazie. Grazie.